No, io non posso rimanere, io ho un appuntamento importantissimo a Roma. State attenti, no? Ormai domani, tanto qua di campioni non ce ne sono. Ma vuoi? Eh? E vattela a prendere. In spiaggia ho incontrato un ragazzo, giocava a pallone. Lì a sparare a rigore. Il maestro vuol dire che non ha mai sbagliato il rigore. Dottor Romano, ho trovato un fenomeno. Uno che può farci fare i soldi veri. Sono Michele Corallo, un osservatore di Serie A. Non abbiamo bisogno di lei. No, no, signora, davvero non chiuda. Io vengo pagato per trovare i ragazzi come te. No! È inutile che perde tempo con due disgraziati come noi. Ti piace il pallone? Puoi dirlo forte. Ti piace il pallone? Ma che ancora non l'hai capito che quel scemo? Io adesso vorrei che chi ha detto questa stronzata chiedesse scusa a me e al ragazzo. Tu si in un buffone. O io o lui. Amore, quello lì è la mia speranza. Quanto vogliamo farci con il ragazzo? 20 milioni l'anno? Non sarò in Real Madrid, però non sono nemmeno la Pro Vercelli. È... Che di Vercelli lei? È quello con i capelli rossi. Che le ho detto, non è un fenomeno. Adesso definiamo le condizioni del contratto. Quanto vuoi se tutto va bene? Tutto. Ti do il 25 invece che il solito 20 che do i pivelli come te. E rigore. Lo faccio tirare a lui. Non sbaglia mai, davvero, è un fenomeno. Elia non ha bisogno né di raccomandazioni né di autorizzazioni. Elia è il piede di Dio.